Sempre buon pomeriggio dalla diretta, passiamo alla differita, ci troviamo sempre sul comunale di Atessa, qua località Fonte Cicero, per la dodicesima edizione del torneo di calcio giovanile Il Monello dove partecipiamo con quasi tutte le categorie, oggi la giornata è dedicata agli esordienti Under 13, questa è la terza gara di seguito che gioca, sta giocando la Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallorossa, adesso contro il Paieta Due minuti fa c'è stata la rete del vantaggio per la Virtus Castelfrentano che fino adesso ha vinto anche le precedenti due gare, la prima con la Tessa blu e la seconda con la Valdisancro, c'è stata una variazione dovevano giocare con la Cassolana invece non so per quale motivo l'organizzazione, ecco un altro attacco, la seconda rete di Leo che oggi indossa la fascia di Capitano, c'è il dottor Capuano sempre presente, 2 a 0 il risultato parziale in questo primo tempo. Dopo quest'ultima gara scenderanno in campo anche gli esordienti Under 13 femminile e faranno anche loro tre gare uno dopo l'altro. Niente, palla dal fondo rimessa dal fondo. pubblico delle grandi occasioni, sull'altra metà campo si stanno giocando un'altra gara, allora si sta svolgendo la terza gara, sempre tra la Virtus Castelfrentano e il Pajeta, 2 a 0 a nostro favore fino a questo momento, le prime due gare abbiamo battuto con un gol di scarto, sia la Tesecco, altra vete di Leo il capitano, doppietta di Leo. al posto... A posto... Al prossimo video, dopo di questa gara scenderanno su questo rettangolo di gioco qua al Comunale, di Atessa di Fonte Cicero le nostre ledi giallorosse della categoria i sorvienti under 13 ai prossimi video